Ciao Romagnura, andiamo a fare notti. Questo gruppo è come una macchina che ha un bel po' di ingranaggi. C'è chi attacca le carte, c'è chi fa i congeni meccanici. Chiaramente, visto che la squadra è formata da 10 persone, ci possono essere dei disaccordi. Però poi, la sera, quando ci andiamo, l'accordo viene fuori, sempre. Io sono Lello Nardelli e sono il presidente dell'associazione Falsabuco. Tradizione e innovazione. La scena più importante, che è l'ultima, si allarga. Invitiamo amici, collaboratori. È una grandissima festa. Chiaramente, poi, tieni dietro i due o tre mesi di lavoro, che scarichi proprio quella sera. Magari bevendo un cicchetto in più, scherzando, ma ne combiniamo tutti i colori.